Ciao a tutti, sono Filippo e sono del gruppo dei Leo e siamo qui alla mensa della Madonna Pellegrina dove cuciniamo per i ragazzi che quotidianamente vengono a prendere il pasto per augurargli Buon Natale. Quest'anno è un anno speciale perché dopo due anni di pandemia mangiano dentro solo per questo giorno e che steggiano con noi in Natale. Una partnership importante perché abbiamo per la terza edizione anche i Titans con il mitico presidente Alberto Giorgis e tutta la squadra qua presente e il menù sarà risotto con radicchio e taleggio e una rivisitazione di Polente e Brugit e Polente e Borgonzola e poi il classico Panettone e Pandoro. Vai Albi! Non posso che ringraziare il Vice Press, il PIC e tutti i ragazzi che sono qua a dare una mano e tutti gli anni ormai ci siamo accodati a questa bella iniziativa dei Leo e sono certo che la porteremo avanti per questo Natale e per tutti i prossimi che verranno. Tanti auguri a tutti dai Vigiano Titans! Ciao, auguri! Ciao! Ciao!